Lucio, ascolta bene la mamma quando parla, Lucio, tu, dobbiamo andare dal veterinario a fare gli esami del sangue e della pipì, tu non puoi chiedermi in continuazione dei premietti, che non ci sono, quando parlo mi devi guardare, mi devi ascoltare Lucio, mi devi ascoltare, ascolta. Tu non puoi sempre pretendere dei premietti a tutte le ore, è inutile che stai qui davanti, non ci sono, guarda, no, uno c'è, quello per i denti, questo te lo posso dare, una pastiglina denta tabs per la placca, questa te la do, in via eccezionale, un attimo. Ah 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 ah, Lucio, dai, oh, un dia eccezionale, una pastiglietta per il tartaro, però, madonna l'hai divorata, però non puoi sempre stare qui davanti dove io tengo i premietti. Poi, cosa ti do, un po' di pasta al malto, ma questa qui ti piace così tanto, che la mattina alle sei e mezza, finché io non mi alzo e te la do, fai delle storie. Ecco, ce l'è un pochino ancora, questa poca perché fa venire la cagarella, questa serve per i boli di pelo che tu non hai, però preveniamo. Oggi ti ho spazzolato da morire. Ecco, hai capito il mio discorso, Lucino, ti devi dare una regolata. Adesso, per stasera, basta con tutto, basta con tutto e quando io ti parlo mi guardi e mi ascolti. No. Niente.